Ciao a tutti! Io sono Greta e bentornati in un nuovo video del Cinema in Dieci Minuti, la rubrica in cui ogni settimana parliamo di film da un punto di vista registico, produttivo e narrativo. Come avrete notato, oggi non mi trovo nel mio solito studio. Sono infatti a Salzburgo, in Austria, dove sono venuta a visitare i luoghi del mio compositore preferito, ovvero Mozart. Ho deciso di approfittare di questo viaggio per parlarvi di alcuni dei film dedicati a Mozart che preferisco di più. Li ho portati qui in DVD con me. Chi mi conosce da più tempo sa che ho iniziato il canale Il Cinema in Dieci Minuti parlando proprio di Amadeus. Infatti, potete recuperare il film qui nel link in alto a destra. Infatti, oggi non vi parlerò del capolavoro di Milos Forman, bensì di questi film che secondo me sono meno conosciuti ma meritano altrettanta attenzione. Questo è un video speciale, poiché festeggiamo il raggiungimento di 400 iscritti al canale. Vi ringrazio per il supporto ricevuto e spero di potervi portare sempre film più interessanti. Del Don Giovanni di Losei non vi parlerò in questo video, perché la prossima settimana uscirà un video dedicato di approfondimento a questo film. Troverete poi il link sempre qui in alto a destra. Vendi Gotterlieben. Iniziamo da questo film. Il titolo in italiano è Angeli senza felicità. Si tratta di un film austriaco del 1942, diretto da Karl Hart. È una coproduzione tra la casa cinematografica Wien Film e Regista. Verrà poi distribuito dalla UFA. Purtroppo, la sua distribuzione è rimasta confinata per molto tempo ai territori austriaci. Solo recentemente è stato possibile recuperare questo film. È un biopic decisamente bucolico sulla vita di Mozart, qui interpretato dall'attore austriaco Hans Holt. Dalla sua nascita a Salisburgo fino ai successi di Vienna, dove la parte narrativa più sottolineata è la sua relazione con le sorelle Weber, Aloysia e Constanz. Una scena del film merita in particolare. Si tratta dell'ipotetico incontro tra Mozart e Beethoven, forse realmente avvenuto, in cui Beethoven si reca nella casa del compositore per chiedere lezioni di pianoforte. La scena è scritta e girata in maniera molto drammatica, con un'audace proiezione a dissolvenza sul profilo di Mozart, che rimanda ad una scena di stream of consciousness del compositore. Melodie Eterne È un film italiano del 1940, diretto da Carmine Gallone, prodotto e distribuito dalla Enic. È ancora oggi una delle pochissime produzioni italiane dedicate al compositore. Melodie Eterne propone una rappresentazione romanzata della vita di Mozart, qui interpretato da Gino Cervi, dove è ancora una volta essenziale per la storia il suo rapporto con le donne Weber. Trattandosi di una produzione degli anni 40, il film presenta l'uso estremizzato dell'italianizzazione dei nomi di ciascun personaggio, e anche dei testi delle composizioni. Le scene relative alla musica vengono sacrificate per dare spazio ai momenti più romantici. Il personaggio di Costanz, interpretato da Luisella Beghi, appare quasi come una bambina estremamente bisognosa delle cure e delle attenzioni del marito, a scapito della sorella Loisia, che qui viene ritratta come una donna indipendente moderna. L'unica grande scena musicale viene presentata solo alla fine, quando Mozart dirige l'over tour del flauto magico ormai prossimo alla morte. Mozart e Salieri Film opera del 1962 per la TV sovietica, diretto da Vladimir Gorriker. Il film si basa, così come Amadeus di Forman, sul dramma Mozart e Salieri, scritto da Pushkin, che poi verrà musicato da Rimsky-Korsakov. Il personaggio di Salieri è interpretato da Piotr Glebov, mentre Mozart è interpretato da Inocchienti Smotunovsky, considerato per molti anni il più importante tra gli attori russi. La trasposizione televisiva di Gorriker riporta le esatte dinamiche e ambientazioni dell'opera teatrale, divisa in due situazioni, il salotto di Casa Salieri e la saletta privata di un ristorante. La prima ambientazione ci rimanda a sensazioni più leggere e giocose, mentre la seconda stanza, legata metaforicamente alla musica del Requiem di Mozart, restituisce allo spettatore una sensazione di angoscia e tensione. Grande lavoro di qualità nella ricostruzione storica delle ambientazioni e dei costumi d'epoca, e un grande applauso va all'interpretazione di Smotunovsky. Mozart è uno sceneggiato per la TV francese del 1984, diretto da Marcel Bluval, ed è forse la rappresentazione cinematografica più veritiera della vita di Mozart. Si tratta di una coproduzione tra Francia, Belgio, Italia, Canada e Svizzera. Tutti e sei episodi propongono in maniera dettagliata gli eventi della vita del compositore, dalla sua giovinezza fino alla morte, dai successi in giro per l'Europa agli anni viennesi. La cura che Marcel Bluval mette nel ricostruire cronologicamente e filologicamente la vita di Mozart è lodevole. Christophe Banzer, che interpreta il compositore, compie un lavoro mostruoso di ricostruzione del carattere e degli atteggiamenti mozartiani, che conosciamo grazie alle testimonianze e al suo epistolario. In Italia lo sceneggiato è stato messo in onda solo una volta, ma il DVD è ancora recuperabile solo in lingua francese. Mozart in viaggio verso Praga Tengo per ultima una vera rarità nella filmografia mozartiana. Si tratta di una produzione completamente italiana, uno sceneggiato della RAI per la televisione risalente al 1974, anno in cui è stato trasmesso in onda per la prima e l'unica volta. Lo sceneggiato è diretto da Stefano Roncoroni ed è tratto dal romanzo di Eduard Moriche. Questo film è forse l'unico tentativo della RAI di trasmettere in onda degli sceneggiati tratti dai romanzi dell'autore tedesco, un progetto mai del tutto decollato. Mozart viene interpretato da Raúl Grassilli, in maniera molto introspettiva. Vediamo infatti un Mozart silenzioso, a tratti assente, ma sempre pronto a sedurre le donne attorno a lui. Nello sceneggiato viene utilizzato, forse in maniera eccessiva, l'uso del blue screen per gli interni, mentre la resa fotografica degli esterni è lodevole, con una luce che ricorda la grana dei quadri settecenteschi. Il video di oggi si conclude qui, spero vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti se conoscevate questi film dedicati a Mozart e quale tra questi è il vostro preferito. Non dimenticate di lasciare un like al video e di iscrivervi al canale. Noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video e un saluto da Salisburgo. Ciao!